Noi insieme con il nostro primo piano. La scorsa settimana abbiamo raccontato la Firenze che sta nascendo insieme alla sindaca Sara Funaro. Proseguiamo a conoscere i nuovi volti di anche la classe dirigente della città con Massimo Manetti che ormai da qualche mese, da qualche settimana, ma possiamo dire anche da qualche mese, è la prima dell'estate il nuovo presidente della Camera di Commercio. Salve, benvenuti. Salve, salve, grazie. E allora, dicevamo di questa nuova generazione, in qualche modo, della Firenze che sta nascendo, che sta cambiando. Intanto, come ha iniziato a prendere le misure di questa nuova attività? Beh, le misure vanno prese piano piano, come si suol dire, perché gli impegni sono tanti, quindi capire la macchina come funziona, però mettendoci la volontà sicuramente si riusciranno a ottenere risultati. Cosa importante, appunto, come ha detto prima, sono cambiate a livello cittadino tante figure importanti, quindi mi riferisco appunto alla sindaca, mi riferisco all'ente cassa, quindi anche alla Camera di Commercio. Ecco, il lavoro di sinergia e di collaborazione credo sia importante per creare una squadra fattiva sulla città. Ecco, perché l'idea che si sta provando a portare avanti è proprio quella della squadra, del gruppo, della unità di intenti, solo e soltanto per i beni di Firenze. Assolutamente sì, credo che lo scopo per quanto mi riguarda sicuramente è sostegno alle imprese e quindi focalizzare le imprese. Però che cosa vuol dire? Impresa vive sulla città, quindi tutto quello che ruota intorno alle imprese naturalmente fa capo all'amministrazione cittadina, città metropolitana e quindi anche alla Regione. Tante sfide in questo suo mandato alla guida della Camera di Commercio, appunto a partire da un punto di vista economico. Quale la preoccupa di più? Beh, in questo momento mi preoccupa la crisi della moda, la crisi manifatturiera che subisce una crisi mai subita prima e quindi è anche difficile affrontarla perché non è solo un problema congiunturale ma anche strutturale. Congiunturale perché in un momento fra le guerre, la crisi della Germania, una politica cinese che va contro i beni di lusso, e poi strutturale perché le aziende si riconvertono anche e le grandi griffe mirano a dei riferimenti più grandi e quindi il piccolo terziaro ne subisce tanto. Andando in crisi la moda, come ormai stiamo vedendo da diversi mesi, un pezzo importante dell'economia della Toscana, dell'area metropolitana in particolare sta soffrendo. E allora quali risposte mettete in campo? Beh, diciamo la moda è la seconda provincia d'Italia per la moda e quindi sicuramente questo ci preoccupa. Più che noi, quello che possiamo mettere in campo sicuramente dovrà essere fatto un piano industriale a livello nazionale e regionale. Quello che noi possiamo fare e quello che stiamo facendo è dare il nostro contributo, è fare un lavoro sulla formazione, la professionalità, un altro elemento importante per sostenere le imprese. Quindi stiamo valorizzando gli ITS, i quali che possono dare lavoro ai giovani, ma soprattutto creare delle figure professionali che faranno e saranno interessanti per le aziende. E poi Polimoda, che è un'eccellenza dal punto di vista della moda della città di Firenze, ma riconosciuta a livello internazionale. Appena insediata la presidenza della Camera di Commercio si è trovato di fronte alla crisi della moda, ma anche ad un'emergenza sicurezza. Un problema che ha toccato con mano anche durante la sua attività, la sua attività professionale, nel cuore di Firenze. Un problema, quello legato alla sicurezza, che la città forse non si aspettava in questa misura e che ha sofferto e sta soffrendo con l'intervento delle forze dell'ordine, i comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica che si sono susseguiti nell'ultimo periodo, la mobilitazione, anche in questo caso con una sinergia di intenti che prevede anche il governo. Il Ministro l'abbiamo visto più volte venire a Firenze nell'ultimo periodo. La Camera di Commercio, proprio in queste ore, ha rilanciato anche un bando per provare a fare la sua parte sempre nell'occhio delle aziende. Sì, assolutamente sì. La sicurezza è uno dei problemi primari della nostra città, anche perché noi veniamo dal passato, che eravamo abituati a dormire con le porte aperte. Le famose chiavi nell'uscio. Le chiavi nell'uscio. Quindi i tempi sono chiaramente cambiati, ma come fiorentini ci abituiamo male a queste cose. Il problema esiste ed è un problema da affrontare, sicuramente. Vedo che la prefetta, con la stessa sindaca, con l'amministrazione comunale, con noi, tutti gli attori si stanno dando da fare per creare attenzione su questo problema e vedere di risolverlo. Non facile questo. Noi come Camera di Commercio, in relazione anche appunto a queste situazioni, abbiamo creato un bando che viene avanti da tempo ormai, da tutto l'anno. Però l'abbiamo prorogato a 2025. Un bando sulla messa in sicurezza appunto delle attività. Che cosa consiste? Consiste che per mettere in sicurezza si intende un cambio della vetrina, i bandoni, le telecamere, l'antifurto. Quindi a 360 gradi tutto quello che riguarda la sicurezza. E noi rifondiamo per il 50% su un massimale di 5.000 euro appunto gli esercenti. Questo vuol dire che se spendi 10.000, 5.000 ti vengono rimborsati. Credo che sia una cosa importante che è stata apprezzata fino ad ora. Erano stati stanziati 800.000 euro, quindi 400 da noi e 400 dall'amministrazione comunale appunto per fare questo bando. Ne sono stati usati solo quasi la metà. Quindi c'è ancora una disponibilità di 400.000 euro. Ma quello che ci tengo a specificare è che prima inizialmente pensavano tutti che questo bando fosse per le spaccate, quindi per risarcire i danni. Invece no, questo bando è per la messa in sicurezza. Quindi si pole attivare questo bando per sostituire la vetrina, per cambiare abbandone, per tutte quelle cose necessarie alla messa in sicurezza senza che si siano subiti delle danni. Per prevenire insomma, come diceva quel famoso spot degli anni 80. Ma lei che ormai come famiglia, insomma, da cinque generazioni se non sbaglio presidiate il centro di Firenze, come l'ha vista cambiare da questo punto di vista la città? Ora, presidiare? No, diciamo le mie decisioni... Siete presenti. Siamo presenti. Presidiate nel senso di presenza. Siamo presenti. Sì, la città è cambiata totalmente. Andavo al mercato centrale, ero piccolino, vedevo delle realtà che oggigiorno non esistono più, ancora non esistevano i frigoriferi, si tiravano con l'uncino le stecche di ghiaccio per mettere nelle ghiacciaie. Chiaramente è cambiata totalmente. C'è un afflusso turistico che prima non c'era, però io mi piace pensare che ognuno di noi deve dare un contributo per affrontare qualsiasi situazione, perché la nostra città va difesa in tutti i sensi, va difesa la nostra identità, va difesa la nostra tradizione, la qualità dei prodotti, delle manifatture, quello che creiamo, e credo che se ognuno mette un po' del suo, in qualsiasi lavoro che fa, in qualsiasi attività, che svolge, poi sarà beneficio della comunità e della città. Diceva, non c'era il turismo che c'è oggi, ma il turismo per Firenze è una risorsa o è un problema? Beh, se non si pensa che è una risorsa, lo diceva il Gran Duca Leopoldo, che la prima risorsa della città sarebbe stata il turismo, e quindi di conseguenza ricordiamoci i periodi del Covid quando il turismo non c'era a Firenze, era tutta un'altra situazione. Il turismo è fondamentale, è chiaro che va governato e va regolamentato, su questo non c'è dubbio, perché se no rischiamo che un turismo in questo modo, la parola overturismo non mi piace dirla personalmente, però un turismo di massa in questo modo può abbrutire la città e dare anche una percezione di degrado. E allora quali sono, come si può fare per gestirlo, per sfruttarlo al meglio? Beh, sfruttarlo al meglio, innanzitutto, diciamo, non voglio andare a dare delle soluzioni precise. Io credo che innanzitutto bisogna premiare, debba essere premianti, con i turisti che pernottano di più in città. Quindi le persone che pernottano di più in città sono persone che danno più qualità, persone che spendono nella città, persone che in tutti i casi hanno un'economia superiore che poi la riversano su città, al contrario dei tour, diciamo, delle crociere che visitano anche la città in 90 minuti e questo dobbiamo considerare che ha un costo. Quindi premiare chi rimane e che porta alla città e che crea un costo va trovato il sistema per farglielo pagare questo costo. Una Firenze che guarda al domani ripartendo dalle sue radici, ripartendo dalla sua storia, che non deve essere persa. La Camera di Commercio in questo senso sta provando a creare un distretto del restauro e questa è una delle chiavi. Il restauro a 360 gradi? È una delle linee guida, ma il restauro è fondamentale. A Firenze abbiamo delle eccellenze e quindi noi come Camera di Commercio sicuramente vogliamo valorizzare questo comparto che ci dà un'immagine nel mondo, appunto con un progetto città del restauro, un progetto dove in un portale si possano confluire tutti i restauratori più piccoli, più grandi, ma deve essere anche non solo una vetrina che fa vedere l'eccezionalità di queste figure in Italia o all'estero, ma anche un punto di confronto per loro dove si possano appunto confrontare, interagire per migliorarsi e questo poi a livello internazionale non potrà che dare dei riscontri positivi sia in termini di clientela, ma come immagine dell'Italia e appunto del loro lavoro che portano avanti con eccellenza. Diceva prima, parlando della moda, l'importanza della formazione che è una delle chiavi che la Camera di Commercio sta mettendo a disposizione per provare a superare questo momento complicato. L'alternanza scuola-lavoro è forse un altro degli aspetti su cui vi state impegnando maggiormente al netto della moda, ma in generale con il mondo degli ITS e in generale per far crescere i propri nostri ragazzi guardando a domani. Sì, sicuramente, sicuramente l'alternanza scuola-lavoro è fondamentale, sono fondamentali gli ITS che noi appunto stiamo sostenendo, abbiamo fatto un evento ora appunto in Camera di Commercio coinvolgendo tutti gli ITS della Toscana, quindi non solo moda, ma si parla di tante categorie diverse da dove gli studenti, i giovani escono fuori e trovano lavoro in circa tre mesi. Cioè, oggigiorno le aziende, il 50% delle aziende manca personale, in alcune professioni arriviamo addirittura al 70-80%. Voglio dire, dagli ITS escono fuori dal 90 al 98% i posti di lavoro. Ecco, io credo che dobbiamo investire su questo, molto su questo e dare un orientamento giusto ai nostri giovani per poter appunto affrontare il mondo di lavoro con delle professioni che poi gli danno delle garanzie dal punto di vista economico, perché non pensiamo esce fuori quello che magari prende uno stipendio, si prendono anche degli stipendi, molto ma molto buoni e dagli un indirizzo giusto per andare a trovare il lavoro dove manca. Un'assistenza, un punto di riferimento della Camera di Commercio per le nuove generazioni, per le aziende, come abbiamo detto, che guarda al domani. E guardare al domani per le aziende significa attaccarsi al treno delle nuove tecnologie, ad esempio della digitalizzazione. I servizi della Camera di Commercio guardano anche a questo, insomma, per portare ormai nel 2025 possiamo dire aziende anche storiche. Beh, sicuramente oggigiorno la digitalizzazione e l'innovazione è una cosa fondamentale per le aziende. Noi, di conseguenza, come Camera di Commercio, abbiamo creato appunto dei bandi di concorso, dei bandi appositamente per contribuire alla digitalizzazione delle aziende e all'innovazione. Noi, proprio come Camera di Commercio, siamo un progetto pilota delle Camere di Commercio d'Italia e su questo ne siamo orgogliosi perché stiamo cercando di ottimizzare tutti i servizi nostri appunto con la tecnologia. Addirittura stiamo mettendo su dei progetti sull'intelligenza artificiale che ci consenteranno nel futuro e spero breve anche di evadere le pratiche quasi in tempo reale. Quindi il nostro contributo per aiutare le aziende a avvicinarsi alla tecnologia è fondamentale tant'è che con le consulenze che possiamo dare quasi tutte a titolo gratuito cioè avviamo le aziende verso questo indirizzo innovativo. Presidente, grazie. Abbiamo fatto un viaggio insomma sulla Firenze che verrà l'abbiamo fatto la scorsa settimana con la Sindaca lo facciamo adesso con il Presidente della Camera di Commercio per provare a immaginare la città appunto che arriverà. Le nostre immagini basate sull'intelligenza artificiale ci raccontano le città come potrebbero essere proviamo a vederle anche insieme ai protagonisti. Chiudiamo qui il nostro primo piano alle 17.15 è arrivata da alle 19.27 il TG insomma l'informazione su RTV38 come diciamo sempre non si ferma mai. La nostra trasmissione torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie.